Dal terminale Lottomatica c'è questo messaggio che è stato venduto questo biglietto di 500.000 euro. La vendita là mi dice l'ultimo mese, dagli ultimi giorni di dicembre fino a ieri, insomma. Però non so il giorno preciso, perché comunque dice che il 13 sarà stata pagata, penso. Neanche una telefonata per dire grazie? Niente, 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 neanche un biglietto, niente proprio. Di solito i tuoi clienti sono di Piedimonte, sono del posto, oppure gente che transita qui si ferma appositamente per fare acquisti? Sì, 98-99% sono di Piedimonte, ogni tanto passa qualcuno di fuori, ma quasi sempre del posto, insomma. Francesco, ma ti sei fatto un'idea, chi possa essere? Difficilissimo, finioramente, magari. È stato un orgoglio, soprattutto in un periodo bruttissimo come questo, è stato fortunato, insomma, la persona che ha preso questo gratta e vince. Ma lei ce l'ha un'idea di chi possa essere stato? No, 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 perché comunque viene tanta gente, è stato, penso, nel periodo comunque tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, quindi c'è stato un bel movimento. Ve l'aspettate una telefonata almeno per dirvi grazie? No, se vuole rimanere anonimo no, sicuramente non ce l'aspettiamo.